I fotografi artigiani sono stati promotori delle iniziative che hanno coinvolto il grande pubblico per un'operazione simpatia che ha attirato un rilevante numero di persone alla sala borsa merci in piazza dei signori, dove erano allestite la mostra La fotografia racconta l'artigianato, un centinaio di scatti che documentano lo sviluppo della piccola impresa nella nostra provincia e una sala di posa presso la quale i visitatori hanno potuto farsi ritrarre e avere subito gratuitamente una foto professionale. Ospite illustre il famoso maestro dell'obiettivo Fulvio Reuter che in una follatissima sala lampertico ha parlato del mestiere del fotografo e delle sue esperienze professionali. Fulvio Reuter, lei ha anche dedicato un libro agli artigiani veneti qualche anno fa che attrattiva ha il mondo artigiano per l'occhio di un fotografo? Forse l'interesse parte da un'idea purtroppo che si sta concretizzando che tra non molto sparirà tutto questo. I giovani non sono attirati da questo genere di lavoro straordinario. Se si pensa che tutto è stato fatto da grandi artigiani dagli egizi fino a poco tempo fa io ho molta ammirazione per questa gente. E credo che una mostra come questa che mostra forme dell'artigianato diciamo che vecchio di 70, 80, 90 anni fa con queste vecchie fotografie fa meditare non poco.